Percorreranno in bicicletta circa 460 km da Orbetello al Castello Romano di Sirolo. I messaggeri della ricerca tornano in sella per la sesta edizione dell'impresa che quest'anno si svolgerà dal 24 al 30 giugno. Obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro i tumori e raccogliere fondi per la ricerca dell'Istituto Tumori della Romagna. L'iniziativa nasce qualche anno fa per l'esigenza di portare avanti un progetto che diffondesse la cultura della salute attraverso lo sport per la prevenzione e la ricerca dei tumori e la relativa cura. Si evolverà nel 2017 con questo viaggio che taglierà l'Italia da Orbetello fino a Sirolo e andrà incontro al sole perciò incontro alle vita. L'iniziativa è stata organizzata proprio a favore dell'Istituto e il nome dell'iniziativa messaggeri della ricerca richiama all'importanza della ricerca nell'oncologia. Siccome l'Istituto di Meldola è impegnatissimo nella ricerca oncologica è facile capire il legame che c'è fra queste iniziative e l'Istituto. Fra l'altro, dicevamo prima, nel corso degli anni in cui questa iniziativa è stata realizzata sono stati donati all'Istituto più di 15 mila euro, il che vuol dire che abbiamo potuto finanziare ben un anno di stipendio a un ricercatore del nostro istituto.